Musica Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo che oggi incontra un settore molto particolare Lo definirei di nicchia e in effetti parliamo di casere Le casere sono chiaramente delle abitazioni tipiche di montagna dove magari si trascorrono i fini di settimana e la domenica I proprietari le accudiscono, possono anche accudirle in una maniera molto speciale per concederle anche ad una sorta di affitto turistico Casere Luxury Lodge è il tema di questa puntata con uno dei protagonisti Claudio Dal Borgo che saluto e ringrazio Ciao Claudio Ciao Claudio, grazie a te Ho inquadrato correttamente anzitutto questa introduzione? In modo ineccepibile Allora, quindi voi siete, se non erro, un gruppo di proprietari, sette, ognuno con una propria casera Messa a lusso, perché il nome è Luxury Lodge, per affittarle quindi? Assolutamente sì, questo è un progetto che è partito con la prima casera sei anni fa Praticamente siamo un gruppo di cinque imprenditori lungimiranti direi io Che hanno ristrutturato con appunto delle ristrutturazioni molto curate anche con delle peculiarità tipo delle spa all'interno per ognuna Ha ristrutturato queste casere e le ha messe a disposizione con questi affitti brevi al turista che vuole venire a vivere il nostro territorio dell'Alpago E queste casere circa quante metrature, quanta metrature hanno e quanti ospiti possono? Allora, abbiamo sette alloggi distribuiti in cinque edifici diversi Abbiamo delle strutture che sono uniche, nel senso affittiamo l'intero fabbricato E abbiamo invece due strutture che hanno un doppio appartamento dislocato in piani diversi E non abbiamo detto il luogo, Alpago, giusto? Siamo a San Martino, in righe la parte alta dell'Alpago, assolutamente sì Ecco, l'Alpago è un luogo bellissimo, lontano dai grandi centri però turistici Vedi Cortina, Raba, Alleghe E allora, il turista, voglio dire, ha successo questa iniziativa? Come vi può scoprire? Come vi scova, diciamo così? Allora, direi che il successo c'è ed è molto importante anche sopra ad ogni aspettativa In realtà abbiamo messo a disposizione questi alloggi di super qualità In un territorio che è poco antropizzato Cioè è rimasto al naturale L'Alpago è un territorio che conosciamo tutti Tra l'altro molto vicino alle vie Quindi in un'ora dai due aeroporti veneti più vicini ci si arriva In un'ora sei a Cortina, in due ore sei a Verona Cioè viene anche usato tanto come piede a terra Cioè l'Alpago è situato in un posto strategico direi Certo, certo E questo ci permette di avere molta accessibilità Vi do un dato, anzi ti do un dato Nell'anno pre-Covid i nostri ospiti erano all'85% esteri Ecco, è anticipata un po' la domanda Quindi il tipo di turista estero, quali sono i paesi principali? Tanto Nord Europa Abbiamo, beh, diciamo tutto il mondo Dal Sud Africa all'Australia Agli Stati Uniti, il Canada Sud America Cioè abbiamo veramente tutto il mondo Come dicevo il Nord Europa sta tirando tanto Anche perché la tipologia di prodotto che offriamo Proprio è quello che vuole il turista del Nord Europa In realtà mi sta stupendo Cominciamo ad avere anche molti turisti austriaci Ah E Trentini Che si pensa sempre che di là ci sia della qualità migliore In realtà probabilmente con l'attività che stiamo facendo Non solo nella qualità della struttura Ma anche nella qualità dell'accoglienza Noi abbiamo due ragazze assunte che ci fanno l'accoglienza Cioè portano l'ospite in struttura E vendono il territorio Cioè fanno vivere il territorio Che è l'obiettivo che avevamo noi Il nostro non era l'obiettivo di creare business Era quello di provare a sviluppare un territorio Anche in ospitalità Quindi non la classica chiave Che troviamo nella buca delle lettere Apriamo e non conosciamo neanche i proprietari Vero? No, no, ci mettiamo la faccia Esatto Ci mettiamo la faccia Per il rapporto anche umano Nell'ottica dell'ospitalità L'ospitalità che non è soltanto gli affitti Ma anche Casere Art & Nature Un percorso artistico Che verrà inaugurato proprio sabato 27 aprile Quindi domani per chi ci vede in prima battuta Oggi per chi ci vede ascolta in replica Un percorso artistico Che quest'oggi sarà inaugurato Con un pomeriggio Che il 27 aprile sarà inaugurato Nel pomeriggio E che poi rimarrà per tutta l'estate Soltanto per gli ospiti Oppure anche per noi Magari che vogliamo venire a farsi un giro Puoi inquadrarci un po' come sarà Allora, questo è un nuovo progetto Che noi soci appunto delle Casere Luxury Abbiamo voluto mettere in piedi Io dico sempre che bisogna puntare in altro In alto E molto in alto Sono i progetti importanti Che fanno la differenza È chiaro che questo non è un progetto Se guardiamo altri progetti Così importante Ma nel nostro piccolo È veramente una cosa Che dovrebbe creare ancora più attrazione Per il nostro territorio Dell'Alto Alpago Ma del tutto l'Alpago direi E c'è nata questa idea Di mettere a disposizione Non solo i nostri ospiti Giustamente come dicevi te Ma anche di tutti i turisti Che frequentano la zona O che vogliono venire a conoscere la zona Questo percorso artistico Dove abbiamo installato Quattro opere di prodotte Create da Raul Barattin Che è un artista Che è nato a San Martino Che vive a San Martino Ed è un artista Che è conosciuto a livello Anche internazionale Ha vinto parecchi anche extempore Insomma cioè È un artista veramente Molto conosciuto Che ha messo a disposizione La sua arte Per il nostro territorio E questo binomio A noi è piaciuto molto Abbiamo trovato subito L'entusiasmo anche di Raul E con questo abbiamo creato Anzi lui ha creato E abbiamo messo a dimora Queste quattro installazioni Queste quattro opere Che sono veramente magnifiche Merita veramente di venire a vederle Tra l'altro un percorso Che rimane fisso Non è una cosa che poi Il 29 Il 28 Domenico Smantelliamo Rimane fisso E speriamo che sia anche questa Un'attrattiva in più Per il nostro territorio Ci parli di un percorso fisso Quindi significa che si può fare un giro Ci sono delle indicazioni Per trovare queste opere E se sì A quanti chilometri ammonte È il giro complessivo Allora Intanto Questo percorso collega Le nostre casere È un percorso circolare Che collega le nostre casere E ci sono Abbiamo messo delle indicazioni Ma la cosa bella Che si è affiancata A questo progetto Del percorso È il fatto che abbiamo creato un'app Un'app dove all'interno Trovate Si possono trovare Questo percorso Quindi con tracciato GPS E quindi si può seguire Questa traccia Per farlo Ma la cosa interessante È che Abbiamo creato questa app Ma non solo Per il percorso artistico Ma all'interno Abbiamo già inserito Una quindicina di percorsi Sia nel territorio Attorno alle casere Ma anche Dell'Alpago E il progetto è quello Di piano piano Inserire altri percorsi Così da rendere Questa app Fruibile A tutti i turisti Che vogliono Facilmente Andare a percorrere O visitare E a vivere L'Alpago Nella solità Quindi dalla foresta Del Cansiglio Ai percorsi Attorno al lago Insomma Quindi In un unico contenitore Dare la possibilità Di frequentare L'Alpago E viverlo Per i vostri ospiti Delle casere Ma non solo Quindi Cioè Anche perché Per gli ospiti Si arriva in un luogo Se si hanno delle opportunità E si sa cosa fare Ma voglio dire Ce n'è bisogno Voi come prenotazione Per curiosità Sulle casere Per quest'estate Siete già al completo Avete già posti Oppure no Come siete Sì Diciamo che luglio agosto Siamo ormai Full In tutti In tutti gli alloggi In realtà La cosa interessante È che Non abbiamo stagionalità O abbiamo Poca differenza Tra stagione e stagione O ecco Non ci sono stagioni Così morte Abbiamo avuto Un febbraio Quest'anno O comunque Un inizio dell'anno È quasi completo Quasi al completo E per noi È un traguardo Incredibile E se mi permetti Claudio Vorrei allacciarmi A questa Tua domanda Dicendo A tutti quanti Che ce la possiamo fare Yes we can Diceva Ok Perché Se si fanno le cose Il messaggio Che voglio dare È questo Che se si fanno le cose Di qualità Se impariamo A venderle bene Se impariamo A coccolare L'ospite Che ci arriva Cioè noi dobbiamo Coccolare l'ospite Come vorremmo noi Essere coccolati Quando andiamo in vacanza Certo Cioè se noi Portiamo avanti Questa mentalità Il nostro territorio Non ha Non è secondo A nessuno Cioè Abbiamo veramente Di tutto E non sto parlando Solo del pago Ma sto parlando Della provincia Di Belluno Nella sua Globalità Quindi L'invito Che do a tutti È veramente Puntiamo in alto Facciamo qualità Facciamo qualità Nelle strutture Nell'accoglienza Nei servizi Che diamo Tra l'altro Dal pago Noi abbiamo anche La facilità Di viverlo Di mettere a disposizione Dell'ospite Una gastronomia Che è Eccellente Direi Quindi insomma Una cosa L'altra Di qualità Fa sì che L'ospite Ritorni Lasci un feedback Molto positivo Chiaro E quindi Il volano Da quello Piano piano Parte E poi voi siete posizionati In un mercato Di lusso Ma molti Magari ci sono molte case Non occupate Logicamente Si può quindi pensare Di fare un'ospitalità Di questo tipo Mettersi insieme Per creare Veramente Una struttura Coesa E che dia Delle opportunità Per il Per il Per il turista Ecco Come vi Viene a sapere Il turista Per curiosità Quali mezzi Utilizzati Social Internet Allora In realtà Se noi vogliamo Raggiungere Tutto il mondo Ci conoscono Tramite Gli OTA Quindi tramite Il portale Airbnb Piuttosto che Booking E Noi abbiamo Investito E stiamo investendo Una parte Di nostri Introiti Con un'agenzia La D4U Che è un'agenzia Di incoming Del bellunese Che ci sta gestendo Proprio tutti questi rapporti Con questi OTA Gestisce l'accoglienza I rapporti Prima che l'ospite Arriva E devo dire Che anche questo È uno dei tasselli Di qualità Che noi Che noi offriamo Se mi permetti Claudio Io volevo dare un dato Che è vero Che è un dato Limitato al comune Di chiesa dal pago Ma per farvi capire E mi riallaccio Al discorso Yes we can Che è questo Nel 2019 Noi avevamo Il comune di chiesa dal pago Aveva 400 Arrivi turistici Anzi Presenze turistiche Nel 2023 Siamo arrivati A 8000 Non è tutto merito Delle casere Perché ci sono altre strutture Che hanno Ristrutturato E anche di qualità Perché poi Qualità porta a qualità Perché c'è un po' Una sfida Che è la sfida Quella sana Quella competitività E dire Beh faccio un po' Meglio E questo dato Deve essere C'è un dato Incredibile Abbiamo una crescita Mostruosa E abbiamo avuto Il covid di mezzo E io credo Che questo sia un dato Che possa far capire Meglio di tutti Quello che è Il risultato Che stiamo portando Non solo Nelle casere Ma nel tutto Il territorio La volontà E la voglia Di fare bene Il risultato turistico Ma anche ambientale Ovvero non cimentificazione Nuovi alberghi Che nascono al niente Ma al recupero Anche dei fabbricati Esistenti Perché voglio dire Se voi non avesse avuto Quest'iniziativa Le casere Magari sarebbero state Magari dismesse Oppure abbandonate Loro stesse Con anche il territorio Circostante Penso appunto Al percorso artistico È un modo in più Per vivere il territorio Dell'Alpago Ma è un modo in più Per tenerlo curato Perché se io Metto a posto Un fabbricato Una casera Probabilmente Tengo pulito Quello che è il davanti Tengo a posto La strada che ci arriva Faccio il percorso artistico Devo tenerlo curato Cioè È tutto un qualcosa Che porta a Migliorare sempre di più E io spero Che questo La gente Lo capisca E lo viva Nella sua interezza Infatti invito Tutti Sabato Pomeriggio A venire a fare La camminata E vivere Quindi conoscere Queste installazioni artistiche Per chi non potesse Fare la camminata Anche perché la camminata È di circa Una decina di chilometri Quindi magari È un po' impegnativa Però Di venire alle 18 Perché Nella struttura Polifunzionale Di San Martino Andremo a presentare Le opere Andremo a presentare L'intero progetto Ci sarà appunto Raul Barattini L'artista Ci sarà l'avvocato E' un'ottore 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 Quindi sarà un'ottore Sarà un'ottore E' un'ottore E' un'ottore Per far capire Qual è Il nostro progetto Per creare conoscenza Quindi E allora Complimenti davvero Per questo progetto Claudio Quindi E' a voi tutti Gentili telespettatori L'appuntamento è rinnovato La prossima settimana Per un altro numero Di Dolomiti Turismo Per un altro numero